Sì, io direi, visto che abbiamo poco tempo, se no io avevo tantissime domande da fare, dico un po' di alcune riflessioni e poi vedi tu, diciamo, quale pensi valga la pena più a sviluppare. Magari anche se ci fai un regalo di qualche bella lettura. Sì, 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 infatti, poi concludiamo con una lettura, direi. Ci sono tanti gli aspetti interessanti, abbiamo visto la reciprocità che arriva addirittura nel testo, quando metti la doppia, la freccia di doppia implicazione, no? che ho trovato molto interessante. Ci sono... Sì, io tornerai sull'aspetto politico, perché sempre nella rete ho visto questa intervista che, se non sbaglio, è riuscita per nazione indiana e appunto si parlava appunto del mercato, non c'è di doppia implicazione, volevo... E si parlava appunto proprio anche della visibilità che era la poesia, del commercio, cioè rispetto a quello. E a me è interessato quello che avevi tu risposto, però non vedevo, cioè secondo me potevano essere ancora sviluppate quel discorso lì. Cioè, tu ipotizzavi, correggimi se sbaglio, una terza via che stia tra l'osannare un autore, e tu dici, io apro la pagina culturale del giornale e trovo che viene osannato come bestseller, come dicevi tu prima dentro la libreria, oppure viene demolito un autore. Ecco, secondo te c'è, proprio perché io vedo nella tua poesia non solo il dolore, ma anche comunque in realtà nel tuo agire in realtà un atto anche verso qualcosa di positivo, secondo te è possibile una terza via che stia a metà, o meglio che sia di analisi testuale appunto, e che mette a punto come protagonista chi legge, e questo protagonista libero di scegliere se è di suo interesse o meno una certa lettura, e quindi per esempio un certo libro di poesia. Quindi, secondo te adesso c'è una strada, perché questo possa avvenire, in cui il poeta sia visibile, ma non sia spettacolare? Ecco questo. So che è una domanda difficile. No, diciamo che contiene già insieme la risposta, nel senso che chiaramente quello che tu dici a proposito dell'analisi è quello che esattamente io intendevo dire. Cioè, di fatto molta... a me capita di leggere recensioni, ma anche saggi, più facilmente però recensioni, che non citano nemmeno una parola del libro che stanno recensando, come faccio io lettore a capire di cosa si sta parlando, semplicemente dagli entusiasmi o dalle delusioni del recensore. E quindi, ecco, questo è un elemento. Peraltro ci possono essere recensioni furbette, di venti righe, di cui quindici sono citazioni, perché c'è anche l'effetto opposto. Quindici righe non sono una recensione, perché non sono una recensione, e non mi danno l'idea del libro, perché è un frammento troppo piccolo del libro. Quindi sono totalmente inutili. Ecco, una via di mezzo è questa via possibile e percorribile, che però pochi critici percorrono, non voglio dire nessuno, ma pochi, ma buoni in certi casi, e effettivamente è quella che secondo me potrebbe anche dare modo al lettore di rendersi conto se, oltre alla predilezione del critico e ai frammenti testuali che lui cita, c'è anche una simpatia, una simpatia che si può attivare, una scintilla che può scoccare. Scocca se appunto il critico stesso si mette nella sua veste di critico a fare il critico e quindi osserva una serie di meccanismi testuali che il libro di suo non ha incisi in testa, ma che vanno cercati. E appunto il primo lettore attivo che va verso il testo è il critico. Poi deve essere capace di trasmettere questo innamoramento, delusione o mezza delusione e mezza innamoramento al lettore. E spesso questo non succede. Anche perché spesso molte case editrici si avvalgono in uffici stampa molto potenti, molto ben organizzati, che però chiaramente emettono una tale quantità di materiali che per i giornali delle riviste è molto più facile riprendere quelli, manipolandoli un po', giocandoci un po' su, piuttosto che leggere il libro. Però c'è un interessante parallelismo poi con anche la cronaca politica, se uno volesse, per spostare un attimo il sguardo e per ritornare al tuo atteggiamento di resistenza. Cioè, io parlo di una riforma, per esempio, di una legge, ma la legge non viene... Cioè, io cittadino non riesco a vedere... Non so qual è la legge, io so le opinioni di tutti, ma non so come sia la legge. Quindi questo, io vedo anche appunto questa forza e valore della tua pesia anche in questo senso di resistenza che apprezzo molto. Poi lascio la parola a te, Matteo, se vuoi consigliare o puoi scegliere la mano, anche poesia, a questo punto non so, ma c'è ragione che so quello che ha detto, darei la parola al testo, se ne ricordi, se ne ricordi, se ne ricordi. D'accordo. E leggerei da... Assolutamente quello che vuole. Dalla casa esposta, ancora un paio di testi, poi ancora da scena. La prima sezione della casa esposta si intitola delle ellissiche, ovviamente, nel senso della forma geometrica, anche le cose che ellitticamente, si omette di dire, e delle, chiaramente, non è soltanto il partitivo, ma è anche il genitivo. La mattina la falena non c'era, era stata presa, vetro, persiana, riaperta la leggenda, non ne cade polvere di colpi, di minuti. Il vecchio saliscendi allora, disdice il giorno, scontorna, torna contorta dentro, ombra al centro. Questa è un po' la mia ossessione, questa della centralità dell'ombra, nell'individescenza, poi, invece, del linguaggio. Anche molto a che fare con il tuo rapporto con la fotografia, e quindi con la ricerca che delimita spazi, in realtà non sembra, sembra più che altro, poi continuare a delimitare un'assenza, un cerchio d'ombra da qui per omano, questa luce abbastanza inquietante. O il grigio, o il genio delle tue fotografie. Ma poi tu fai il fermetto Giacomelli a Woodman. Sì, sì, sì. Anche lì, se avessimo più tempo, sarebbe interessante. Comunque, invitiamo chi ascolta a leggere i testi, e sicuramente si incuriosirà. Sì, nella nota finale poi di scelta, appunto, nominando Woodman e Giacomelli, Giacomelli, parlo di questi due fronti oltraggi che si implicano, l'estremo di Clatte e il suo opposto. Il bianco è nero. E questo mi fa riflettere sul fatto che uno degli autori a cui non posso non fare riferimento, e che mi piace brevissimamente citare, non è un poeta, non è un romanziere, non è un prosatore, ma è stato in realtà anche narratore. Ed è Emilio Guerroni, un filosofo scomparso recentemente, uno dei più sensibili e attenti chiosatori della terza critica kantiana. Una delle cose che maggiormente mi sento di dovergli nella mia poi sovrana, scarsa conoscenza, non sono un filosofo, sostanzialmente, però comunque studi di filosofia ne ho fatti, è proprio questa implicazione reciproca, costante, è una sorta di disegno esceriano di mano che disegna una mano, del senso e del non senso, e quindi del bianco e del nero. Per cui noi non percepiamo il bianco non a contrasto che impiegherebbe un dualismo, ma a sfondo, a coerenza, a coesione col bianco e del nero. E leggo poi a specchio due poesie, a questo punto sempre da La Casa Esposta, che in qualche maniera sono anche loro due mani che si disegnano. La casa ha una più lenta ossidazione dovuta all'acqua, casa dovuta all'acqua. Le viole, corde delle luci gialle, lontano la cucina, diffratte una via l'altra, le vedi più da qui alle mura, assetate male. La canna fumaria fitta, più fradicia per le vespe, i nidi ricresciuto intorno al cerchio bruno, il nero fumo che ricorda c'era grigia delle labbra, del padre doppio che era esposto alle ultime visite. Continua a piovere. Soltanto variare vale, pensa, mentre quasi cade. Poco prima di finire si addormenta, anche nel sogno piove. Lei fabbrica un intero sogno che la divide. Partita da un suono, solo una frazione, o anche finzione di secondo, prima degli occhi, viene un'ago immagine di costa insediata da meridiani, nodi strappati sotto il petto, come in una fossa, ma come senza sterno, blanda, ma da troppo distante la figura, la piegatura delle dita, cenna a salutare e non è vista, e sente che un drappo le copre e cancella, come fosse un'altra la faccia, ma poi torna da capo, ma non è sua, ma parla, è quasi un filo sul fondo dello specchio, un mallo di domenica, si brucia l'istante, che le sono aperti gli occhi in mattina, lei anche da sveglia brucia. Siamo due testi appunto da una casa esposta, un piccolo dittico in realtà poi spezzato da un'altra poesia che non ho letto, e qualche altro, forse, ritratto può essere letto da Shelter. Anche sì, c'è sempre questo ritorno al non visto, il nascosto, l'ombra appunto. Io qua adesso appunto c'erano dei promessi di non parlare ovviamente di massimi sistemi, però io vedo veramente una propria relazione agli opposti, anche una relazione appunto con il non visto per eccellenza forse, cioè l'inconscio freudiano, e comunque la relazione con gli opposti, e proprio la costruzione del senso, e quindi ho trovato molto suggestivo a Shelter anche sotto questo profilo, diciamo. Ma tra l'altro, nel caso di quei due testi letti adesso, c'è proprio una, a proposito di quello che tu dicevi prima, della permeabilità che voi dicevate prima, della duplicità dei luoghi. C'è un sogno in cui si entra, un sogno da cui si esce, e in entrambi c'è un movimento acqua, come il primo, e di fuoco nel secondo, e come a dire che appunto, pur essendo per esempio il secondo, un percorso attraverso i sogni, una serie di immagini razionali legate, come razionalmente sono legate le immagini dei sogni, poi di fatto c'è il bruciare reale, quindi di fatto c'è... Questo doveva anche a fare anche con... Anche l'intervista si chiude con una circolarità minacciosa, perché noi all'inizio avevamo parlato di luoghi comunicanti, anche di diversi luoghi del sonno e della veglia, in realtà poi si dimostra il sogno di... direttamente interagenti da... Dato che poi sostanzialmente è un messaggio appunto non esplicitato, in questo non assertiva il libro, è quello che la realtà è come un incubo, perché poi gli incubi sono... Il castello di cui tentate ci parlare... Sì, ha veramente tanti punti oscuri che in realtà continua a diffrangere il testo e a dismettere ogni possibile categoria salda che permetta, insomma, di leggere i luoghi e gli eventi così in maniera... Matteo, siete d'accordo di far leggere un'ultima poesia per concludere? Assolutamente. Quella magari che... Una che leggo forse... Ci vuole un'altra, quindici. Leggo quella che probabilmente... Poi il sigillo è anche qui da capo il segno di un... di un essere dentro e un essere fuori che si ritrovano nello stesso testo che è l'ultima poesia del libro Shelter, appunto. La natura ferma entro la ghiera nel cortile protetto per l'arcata non ottobre superiore la natura della ghiera è quella costano le mura per la felce per tenere protetto per il casto Gli animali di lamento breve e più breve notte che si alternano nei tessuti sanno che non hanno costruito o che non è per loro e così usano quello che c'è le pieghe dei riporti di terra le marcite cuoriformi la criptografia della mattina verde che non ha fietà se è sotto l'acqua nera e perde siero e sangue quello che ancora è per metà dentro la nascita che non ha fietà se è sotto l'acqua nera che non ha fietà se è sotto l'acqua nera che non ha fietà se è sotto l'acqua nera che non ha fietà se è sotto l'acqua nera che non ha fietà se è sotto l'acqua nera che non ha fietà se è sotto l'acqua nera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti